Musica Hanno chiesto di sviluppare un presepe, di fare un presepe e noi abbiamo voluto fare una nostra interpretazione, logicamente. È un'interpretazione molto legata ai fatti contemporanei, quello che succede nei nostri mari in questo periodo, da un po' troppo tempo. È legato alla migrazione della gente, perché poi Giuseppe e Maria migrarono per poter dare un futuro a Gesù Bambino. Musica Ci sono tutte le classiche figure della natività, quindi la prima è un angelo qui rappresentato come la figura che protegge e vigila sopra la famiglia, in questo caso è la guarda costiera, una guarda costiera che vigila da lontano l'arrivo dei migranti. Musica Giuseppe e Maria, la famiglia in cerca di una speranza, non sull'asino ma in questo caso su una barca. Musica Il bambino non nasce in una grotta, ma in questo caso in un'onda, in una grande onda. Musica Poi anche i tre aremagi, che non portano i classici doni, ma i vestiti, il cibo, i medicinali, i primi aiuti, quindi rappresentano le tre più grandi associazioni di aiuto umanitario. Musica E in ultimo il pastore che rappresenta la vita che continua di fronte poi a tutti questi eventi, in questa declinazione marittima è il pescatore. Le sculture sono fatte solo di sabbia e acqua e basta, non c'è nessuna struttura, nessun collante, niente. Musica 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 Musica